Buon 1988, iniziamo con un prodotto super, ma i diventiti per fare un po' di progettamento, con poteri extrasensoriali, con percussioni al guante fricariggianti, si chiama KISS LIPSA! Buon diventimento con la musica di Cooper DJ, è un qualcosa di strano, KISS LIPSA! Inabbinati nel rivo anche il caro più alta! Ehi Matthew! Ehi Matthew! I TREGIO! 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 Sendo così, i brinchi 188, ventina da bolletta! 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 Andra, andra, andra! Come on! 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 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1,2, 3, 1 3 4 5 4 5 6 8 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti